Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano al centro del dibattito sociale a un anno dalla fine del loro matrimonio. Dopo essersi conosciuti nel 2021 a uomini e donne e aver celebrato un matrimonio sfarzoso a maggio 2023, la rottura cioc è arrivata solo un mese dopo. Frecciatine e allusioni si sono susseguite senza che i motivi della separazione fossero mai rivelati. Tuttavia un'indiscrezione potrebbe cambiare tutto. Secondo un esperto di gossip, alla base del divorzio ci sarebbe un tradimento da parte di Fabio, coinvolgendo anche un ex collega di Isabella. Circa un anno fa Isabella aveva parlato della separazione da Fabio senza entrare nei dettagli, Mantovani dal canto suo aveva fatto solo frecciatine generiche. Tuttavia le indiscrezioni social di Amedeo Venza hanno svelato che il tradimento potrebbe essere avvenuto con una dama del trono over. Le iniziali I e F si riferiscono proprio a Isabella e Fabio, secondo Venza. Se la notizia fosse vera potrebbe scatenare un vero polverone. Fabio avrebbe davvero tradito Isabella con un'altra dama? E chi sarebbe questa misteriosa donna che ha causato la fine del matrimonio? Le domande sono molte e i diretti interessati potrebbero presto dover rispondere. Finora Isabella e Fabio sono stati molto riservati, ma la verità potrebbe presto venire a galla. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.